In occasione del 140esimo anniversario della morte di Angelo Mariani, Ravenna e Parma dedicano al celebre musicista, compositore e direttore d'orchestra un convegno in programma il 30 novembre alla Sala Corelli del Teatro Alighieri. Angelo Mariani è stato uno dei nostri allievi più illustri che l'Istituto Verdi si vanta nella storia di aver avuto. Quest'anno noi commemoriamo Mariani nel momento in cui ci sono le celebrazioni verdiane e wagneriane perché lui è stato il ponte di unione tra Verdi e Wagner essendo il direttore delle opere di Verdi e quello che ha aperto la strada a Wagner in Italia nel 1871 con la prima dell'Oingring a Bologna. Quindi noi in questa giornata di studi approfondiamo tutto quello che è relativo alla sua vita di direttore, compositore e ascoltando della sua musica. Alcuni brani sono anche in prima esecuzione e sono degli inediti. Il progetto è in collaborazione anche con il Conservatorio di Parma e che insieme ci uniamo per commemorare questa figura importante di musicista e si può dire che Mariani è stato il precursore della moderna direzione d'orchestra in Italia e quindi ha segnato il passo per tutti quei direttori che oggi sono al massimo e rappresentano la nostra cultura direttoriale d'orchestra in Italia.